Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questa nuova gameplay della EA Sports di Naruto Storm 2 qui col vostro Vale 93 Ba e sì, se la qualità del suono è migliore perché sto commentando dal vivo perché oggi non c'ho voglia di mettere sul computer e montare dopo l'audio quindi vediamo un po' che bella schifezza viene fuori dato che volano bestemmie a go-go allora, premetto che ho fatto tutto completamente random quindi, wow Ah, ho fatto sì, l'audio quello inglese per una volta Ah, cavolo mi trovo sempre in difficoltà poi premetto l'ho utilizzato sia e non un paio di volte Ah, al volo, cavolo una botta di fortuna ogni tanto ci vuole Eh, al volo se, no, cavolo no Ah, cavolo no cavolo, uffa Ma, nel momento proprio, nell'istante esatto Ah, almighty bush che non so che cacchio significhi E vai E vai No, 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 no Dai, resisti pain Dai, resisti pain Maledetto Bastardo Ah Eh sì, eh sì, eh sì Almighty push finisce Vabbè Ma, che culo Pain non l'avevo utilizzato mai Solo una volta, credo Che culo Va bene Andiamo direttamente per il prossimo Tanto questo è durato poco poco Vi mostro anche un po' il menu delle scelte online Scegliamo un personaggio per la rivincita Ah, a proposito Non vi ho detto contro chi sto combattendo Superlegol 97 Oppa Qua Infatti ho capito il telefono Messaggino Allora Vediamo un po' chi posso utilizzare adesso Non lo so Prima ho fatto random Quindi mi son trovato malissimo Non lo so Potrei provare Potrei provare Ecco Eh, Kakuzu Dai Misspear La combo immortale Va Kakuzu-Idan Non lo so Mi sembrano il duo dell'alba più Non lo so Che mattire, ecco Sì, in effetti Dell'organizzazione alba Non mi piacciono molto I personaggi Solo Idan E I tarci Mi piacciono Ave Tobi In modalità risveglio Quindi Madara Sì Che sembra tanto simpatico Tobi La risveglio poi diventa serio Cambia voce Diventa fortissimo Chissà come mai E così O almeno io non seguo l'anime Il manga Quindi non saprei cosa dire Oh 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 E Vai Sì Vabbè Idan ha questa bellissima particolarità come personaggio Sì Vabbè Però Se utilizzi Il support Utilizzi Cerca di evitare Di utilizzarli entrambi Cioè Mi piace come un casino la mossa finale di Kakuzu Eh vabbè però dai No cavolo Mi ha preso in contropiede stavolta L'ho a me Eh vabbè però così non si fa Sta buttando Appalate Oddio Oddio sono fottuto adesso Eh vabbè Te la sei cercata No Che ho Triplo Quadruplo Ah sì No Cacchio Vai vai No Cavolo E vai Oh È troppo bella Sinceramente ragazzi Dai Diciamo Vabbè Qua mi basta Mandare Idan Che dovrebbe riuscire a fare qualche cosa No Forse Ah Sì Cacchio No Sono senza Kakra Come mai è volato via Vabbè Sì Grande Idan Grandissimo Idan Idan da vicino è buonissimo Kakuzo anche da lontano Quindi è una bellissima combo Oh Qui le fibre nere Anche da lontano Possono attaccare È un buon personaggio Firestyle No 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 Eh che cacchio Dov'è Idan Quando serve Dai Fammi avere la modalità risveglio No Scherzato E anche questa è andata E siamo a Sette minuti Vabbè Non lo so Possiamo provare a farne un altro La veloce Sì dai Volendo Sperando che duri molto di meno Però Proviamo Che però non ho capito Perché tutti utilizzate Minato Dai Poi mi chiedevano appunto Ma Vabbè Evito Chi posso scegliere adesso Adesso Inata Dai Mi ispira Inata Sì però Chi posso prendere come personaggio Di support Vabbè Kiba è E come cacchio si chiama Quest'altro Shino Giusto perché mi ispira Questa cosa va E ho utilizzato solo una volta La squadra Kurenai Vabbè dai Proviamo Anche se non vi garantisco niente Io lo dico già Perché non si sa mai Tanto Kiba come supporto è buono Shino Non Penso di no Oddio Non so dire Non so dire Qui Itachi Itachi come risveglio Veramente fa Paura Ole No cavolo Mi ha fottuto sul tempo Maledetto Aia E questo fa malissimo Uffa Hai finito Oh madonna Oh Vabbè che cacchio No dove vai in realtà No No Sì sì Grandissima Oh Così si fa No 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 Vai 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 Bella combo Comunque Ah Mentre se la prendeva con Shino Ce l'ho fatta No Non avere risveglio Se cazzo Vai Con la super mossa 3 4 5 Quanti siete Ah E' volato Pain Yeah No Sì Non ho sprecato la mossa 3 Vai Oh E' un supporto in meno E vai Andata E mi sa che finisce qua Sì Toglie metà in genere La mossa finale Quindi Olè Bene Bene Non me l'aspettavo questa vittoria Perché anche inata non l'ho mai usata Mi ispirava solamente stavolta Va bene ragazzi Quindi OS Che culo Finisce qua questa gameplay di Naruto Storm 2 Grazie a Lego 97 per avermi fatto registrare Alle 3 di pomeriggio dopo il caffè Quindi Un ciao da Vale 93 Ciao